ben trovati comincia una nuova settimana comincia una nuova settimana in compagnia ovviamente di legal community e di mag nello specifico nuovo numero nella nostra iedicola scaricabile gratuitamente come ben sapete un numero ricco di tante nuove notizie approfondimenti interviste ed esclusive come quella che dà la storia di copertina edizione legal del nostro quindicinale legal tech sotto la lente in particolare il nuovo progetto prodotto lanciato dallo studio toffoletto del lucatamaio si chiama futuro con la e con la h fra la u e la r che sta a richiamare il concetto di hr risorse umane si tratta di un tool di un software che consente come dire di arrivare a una gestione evoluta delle incombenze legate no al gestione del personale all'interno dell'azienda sia con diciamo strumenti di carattere tecnico operativo sia con strumenti di carattere puramente o prettamente squisitamente giuridico nel dettaglio il progetto futuro viene raccontato dai due suoi ideatori cioè l'avvocato franco toffoletto e il consulente del lavoro roberto corno diventato socio dello studio all'inizio di quest'anno mag fa il punto della situazione su questa collaborazione e ovviamente su questa iniziativa che in ambito legal tech sembra destinata un po' a segnare un punto di svolta un vero e proprio prima e dopo di quello che sarà il mercato dei servizi legali dedicati all'employment e alla gestione del personale ma ovviamente abbiamo tantissimi altri contenuti un approfondimento insomma che prende le mosse da una ricerca fatta da MOPI e AIG sui General Council andiamo a vedere qual è l'atteggiamento il sentiment con cui i direttori affari legali stanno affrontando il mercato soprattutto quali sono le conseguenze di questo atteggiamento di questo mood rispetto al mercato dei servizi legali il titolo è parcelle sotto pressione voi potete trarne già alcune conseguenze e però se volete approfondire e raccogliere tutti i dati che vi dicono come la pensano i General Council rispetto alla gestione della spesa legale beh dovete leggervi il nostro articolo abbiamo fatto un pezzo in cui raccontiamo le iniziative di People's Engagement di Bonelli Erede abbiamo raccontato per la prima volta la storia di questa boutique dedicata al dispute resolution sia litigation che arbitration si chiama DR per scoprire di chi si tratta dovete leggere il nostro mag con il nostro Tommaso Grotto di Coppira abbiamo l'appuntamento periodico con Legal Tech Garage che è la nostra rubrica e che sicuramente vi interesserà se siete curiosi soprattutto di sapere l'impatto che le tecnologie legali stanno avendo sulle professioni e per finire vi cito ancora ma sono tantissimi ovviamente i contenuti all'interno del nostro mag sicuramente interessante da leggere l'approfondimento fatto con il General Council del settore trasporti rispetto all'impatto che Covid-19 sta avendo su questo comparto e soprattutto sulla modalità con cui ci muoviamo e muoveremo nel prossimo futuro l'abbiamo fatto appunto parlando con il General Council di Alitalia, Ferrovie dello Stato eccetera eccetera è molto interessante perché ci danno come dire la view legale di queste novità e di tutto il lavoro che hanno dovuto svolgere per adeguare le loro attività a come dire gli obblighi connessi all'attenzione sanitaria con cui bisogna affrontare questo momento parliamo di tutela dei mal che lo facciamo con Piaggio che ci racconta un po' la propria strategia su questo fronte in ambito finance vi segnalo un ampio servizio dedicato al crowdfunding curato dalla nostra Laura Morelli e per le nostre incursioni nel food business questa volta andiamo in Piemonte terra insomma di tante eccellenze in ambito food and beverage andiamo in Casa Ceretto, altra famiglia come dire storica nel settore del gourmet se volete dal vino fino alla ristorazione ci raccontano un po' il loro modello di business che oltre al vino che come tutti sappiamo caratterizza questo nome per non dire questo brand ha anche invece le nocciole tutto questo raccontato dalla nostra Francesca Corradi bene non vi resta a questo punto che scaricare mag, leggerlo e noi ci vediamo la settimana prossima come sempre ciao